Prima i ritardi nelle liberazioni dalle quarantene, poi nell'effettuazione dei tamponi, il tracciamento che ha fatto buchi da tutte le parti, ma ancora un altro problema c'è, forse poco discusso, eppure altrettanto importante per chi è positivo ed in quarantena domiciliare. Numerose le segnalazioni arrivate in redazione che si leggono sui social rispetto al ritiro dei rifiuti speciali, dei positivi. Rifiuti che ovviamente dopo due anni tutti sanno essere considerati speciali che fanno un percorso a parte. La signora Dele, 11 giorni di attesa per i rifiuti dei positivi. La signora Lina aspetta ancora da un mese. Contenitori dei rifiuti consegnati ai soggetti dopo che si sono negativizzati e si potrebbe fare così una lunga lista di casi. Il reparto afferisce al Dipartimento di Prevenzione diretto dal dottore Franco Iacono. Pare ci siano ritardi nelle comunicazioni con la ditta che non arrivano gli elenchi aggiornati e la ditta comunque con più di mille positivi in città. Non riesce ad affrontare la mole di lavoro. Intanto è anche accaduto che alcuni cittadini stanchi di tenere i rifiuti a casa li hanno conferiti normalmente. E quando poi sono arrivati gli operai specializzati i rifiuti non c'erano più ed i proprietari si erano anche negativizzati. Troppi tanti disservizi del Ripartimento di Prevenzione di questi due anni che non ha mai replicato, spiegato, illustrato le ragioni.